salve a tutti friends dal vostro supercorris eccoci qua ragazzi parliamo del rinnovo di charles leclerc un rinnovo arrivato in maniera inaspettata per le tempistiche nessuno ieri pensava di vedere questo rinnovo anche perché era la priorità vasser aveva sempre detto prima che inizia la stagione la nostra priorità è rinnovare il contratto di leclerc ed è giusto perché dare stabilità alla squadra è importante ma soprattutto anche al pilota quando il pilota sa dove andrà a finire nelle prossime stagioni sicuramente può rendere di più e può guidare con una serenità di più ma anche per responsabilizzare il pilota perché un pilota che sa che deve correre più anni con una scuderia si può permettere anche il lusso di chiedere di più e soprattutto di spronare il team di guidarlo leclerc nel 2023 non l'ha tanto fatta questa cosa anzi abbiamo visto molte volte abbastanza polemico scontroso per il discorso semplicissimo che ha voluto tenere ferrari un po sotto stress per poter magari capire qualcosa in più in sede contrattuale è stata una strategia che ha premiato perché ferrari era un po con le spalle al muro ma devo dire anche leclerc perché sostanzialmente ragazzi qual'era l'alternativa di leclerc non ci sono alternative l'unica che posso intuire io potrebbe essere la stone martin ma con tutto ancora da dimostrare a livello di competitività quindi conveniva leclerc mollare ferrari team dove tu comunque sei leader e sei nella squadra più importante della storia sei leader e quindi vincere con ferrari sarebbe molto diverso da vincere con aston martin converrebbe alleclerc cambiare no non a caso alla fin fine si è arrivata quel rinnovo che vi ho sempre detto arriverà ragazzi arriverà anche per mancanza di alternative e della ferrari e di leclerc quindi detto ciò perché tanto mistero intorno a questo contratto noi abbiamo visto il rinnovo di tutti gli altri piloti ragazzi norris sappiamo che ha rinnovato fino a fine 2025 a 25 milioni di euro emilton ha rinnovato fino a fine 2025 a 50 milioni di euro per staff e sappiamo che c'è il contatto fino a fine 2028 60 milioni di euro non capisco perché tutto questo mistero questo riservo non si sa la durata non si sa lo stipendio di leclerc i motivi ci sono adesso ve li dico come sempre voglio invitarvi per iscrivervi a tutti i miei canali se volete lasciate un like seguitemi sui miei social c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza super corris and friends link di paypal in descrizione pure un euro donato andrà a enti di beneficenza che di mese in mese aiuteremo verrete tutti ringraziati voi donatori con nome e cognome di chi appunto ha fatto la sua donazione ricordiamo che in un anno abbiamo donato 5.500 euro c'è l'aiuto e il sostegno al mio canale abbonamenti donazioni potete aiutare il mio canale a crescere a migliorare sempre di più allora partiamo subito shares leclerc il rinnovo allora innanzitutto ritengo che sia una buona notizia sì ragazzi tutti noi ferraristi amiamo leclerc gli vogliamo bene chiaramente io sono uno di quelli che in maniera molto spicciola riconosce che leclerc deve crescere ancora parliamoci chiaramente non ha fatto quel salto di qualità che ci si aspettava negli ultimi anni è un pilota dal potenziale immenso nostro ordine immenso per me leclerc ad oggi non è secondo a nessuno come potenziale il problema è che leclerc un pilota che questo potenziale spesso non lo riesce a mettere in pratica è vero che la ferrari non è che gli abbia dato la miglior macchina nel mondo del mondo negli ultimi cinque anni ma anche vero che il pilota continua ripetutamente a fare gli stessi errori dimostrando che a livello di maturazione c'è ancora da fare quando altri piloti magari sono maturati meglio vedi verstappi ma lo stesso norris fame in errori di leclerc nell'arco di una stagione per quanto anche norris ne faccia arriva questo rinnovo che era la speranza di tutti perché sarebbe stato destabilizzante per il mondo ferrari perdere leclerc ad oggi leclerc è il punto focale della ferrari il discorso qual è perché tutto questo tutta questa tutto questo silenzio tutto questo mistero intorno al rinnovo di leclerc perché beh ragazzi secondo me è semplicissimo ferrari ha fatto un rinnovo alleclerc io credo molto a favore del pilota molto a sfavore della ferrari non che leclerc abbia rubato nulla abbiamo visto sia vasser che vigna che l'amministratore delegato che john elkan che il proprietario hanno avvallato questo contratto quindi è evidente che tutti hanno puntato sulle clerche però secondo me far uscire la notizia del vero ingaggio di leclerc e della durata del contratto potrebbe creare malumori perché molti ragazzi sarebbero critici sul fatto che lo stipendio che andrà a percepire leclerc che ricordiamo a salire andrà a arrivare a 50 milioni di euro uno stipendio folle per quello che il pilota ha vinto ad oggi ad oggi 50 milioni di euro chi li prende in formula 1 emilton sette volte campione del mondo e versapen prende 60 perché è tre volte campione del mondo in carica qual è il discorso dire che leclerc ha firmato un contratto probabilmente quinquennale a 50 milioni di euro raga sarebbe un caos anche perché poi sarebbe difficile anche far rapportare i piloti che correranno affianca leclerc con lui perché sappiamo abbiamo visto che adesso ferrari ha spostato il tavolo delle trattative su carlos sainz ed è giusto perché dare stabilità è importante ferrari vuole rinnovare con sainz perché comunque alla fin fine il rapporto con leclerc è decente i piloti hanno dimostrato valore ma se tu dicessi al mondo leclerc ha rinnovato per 5 anni e 50 milioni di euro con sainz come ti puoi comportare una volta che ufficiale questa notizia sicuramente sainz sbatterebbe il pugno e ti direbbe allora anch'io voglio almeno tre anni di contratto 40 e 50 milioni di euro dato che i due quest'anno si sono equivalzi anzi l'unica vittoria la portata sainz sainz non si sente inferiore alleclerc ad oggi sta correndo allo stesso livello quanto dovresti pagare sainz allora ferrari secondo me ha adottato questa strategia per poter far sì che sainz non sappia i veri dati sul rinnovo di leclerc che significa adesso ferrari si sederà con sainz si dirà tu non pensare a quello che abbiamo fatto con leclerc concentriamoci su di te sainz gli strappi un rinnovo biennale che è quello secondo me l'obiettivo anche se io penso addirittura di un anno solo rispetto al 2024 magari ferrari strapperà un biennale a sainz a 20 milioni di euro l'anno che saranno molti meno di quelli che percepisce leclerc una volta che i rinnovi saranno ufficiali ragazzi ferrari la potrebbe dichiarare le cifre anche se difficile però di base si potrebbe arrivare a sapere quello che percepiscono i piloti perché farlo ora dire ora quali sono le cifre di leclerc sarebbe assurdo perché ripeto sainz a quel punto si arrabbierebbe non accetterebbe un rinnovo di contratto a cifre nettamente inferiori perché oggi ragazzi con noi ferrari assenzi più di 20 milioni di euro a stagione non glieli dà e sono la metà di quelli che percepirà leclerc quindi capite che non ha senso innanzitutto dimostri come tu punti molto più su un pilota che su un altro ma lo sappiamo che ferrari punta sull'eclerc e non su sainz però è chiaro che andesse a creare dei malumori io penso che a questo punto non si diranno mai le cifre dei rinnovi ferrari si potranno solo ipotizzare e non penso che sainz arriverà a guadagnare più di 20 milioni ne guadagna 12 13 ora gli si farà un aumento a 20 milioni per un pilota che comunque ha dimostrato di valerli in pieno e ferrari si fermerà là quindi dando alle clerche una cifra enorme e un rinnovo lunghissimo a sainz molto meno allora il discorso dei cinque anni tutti ipotizzano che leclerc abbia firmato per questi cinque anni un po come è stato il suo primo contratto in ferrari cinque anni con le clausole perché anche il contatto che aveva oggi leclerc gli permetteva di uscire da ferrari nel caso che ferrari non ha non arrivava nei primi quattro e nei primi tre scusate del mondiale costruttori si vocifera che questa clausola è rimasta quindi se leclerc si vuole tirar fuori da ferrari nei prossimi anni probabilmente dopo il terzo anno di contratto quindi 25 26 26 se leclerc nel 2027 si volesse ritirare da ferrari perché magari la macchina non è competitiva non arriva almeno terza del mondiale costruttori lo può fare quindi ragazzi vedete come il fatto che ci siano queste clausole sul contratto non è che significa qualcosa di buono significa che leclerc non c'ha questa grande fiducia in ferrari parliamoci chiaramente se tu sei fiducioso firmi un contratto in bianco un po come ha fatto emilton io non penso che emilton abbia delle clausole sul contratto mercedes che dicono che se lui non arriva terzo nel mondiale costruttori con la mercedes lui se ne va il fatto che leclerc si ostini a inserire delle clausole nel contratto anche quelle misteriose ma di cui tutti parlano è sintomo che leclerc si rinnova in ferrari ma sempre con una porta aperta nel caso che le cose non vanno come dicono come dice lui chiaramente giusto sì perché comunque un pilota poi a un certo punto si stufa se ferrari continua essere una macchina di merda per altri due tre anni è chiaro che anche io me ne andrei però vedete questo amore sviscerato da tutti di leclerc sulla ferrari un amore incondizionato che il pilota ha nei confronti di ferrari non è proprio così ripeto dato che lo stipendio sarà mostro per quello che il pilota ha già vinto e in più c'è questa benedetta clausola che continua a beleggiare a maranello una clausola che nessuno ha voluto togliere si poteva togliere se tu sei veramente innamorato di qualcosa firmi e dici a me non mi interessa cosa farà la squadra anche perché in questo modo è facile dire poi è no ma la macchina non va bene me ne vado sei tu che devi portare la macchina a vincere cioè è chiaro che ad oggi il valore del pilota è molto inferiore rispetto a 20 30 anni fa però cazzo se tu ti ci metti di impegno anche tu puoi dare un contributo alla squadra per migliorare è una clausola che permette alle clerche di togliersi tutte le responsabilità corro fate la macchina se va bene vinco se non va bene me ne vado dopo tre anni non lo so non lo so io vedo troppi misteri ma vi ripeto sono misteri dovuti al fatto che ferrari con le clerche probabilmente ragazzi lo vedremo nei prossimi anni ha fatto il passo più lungo della gamba a livello economico il problema della ferrari è che ha fatto il passo più lungo della gamba a livello proprio di moneta perché secondo me ad oggi dare quei soldi alle clerche e fare un contratto così lungo significa davvero mettere in mano alle clerche le chiavi del team e dire fai quello che ti pare sarà un problema per tutti i piloti che correranno con le clerche che saranno inevitabilmente i secondi piloti e trattati da secondi piloti e già science non è quel genere di pilota quindi già si potranno creare enormi tensioni e in più ragazzi discorse che ad oggi non rivelare nulla del contatto di le clerche dire solo che è pluriennale nonostante poi vedete le speculazioni escono ma come sono uscita all'epoca dell'allontanamento di binotte cose varie quando esce la speculazione ragazzi ci sta qualcuno che le sa le cose e che da dentro ha fatto uscire le notizie quindi la realtà è che le clerche c'ha cinque anni di contratto tre dai quali si può divincolare quindi dopo il terzo anno se ne può andare da ferrari se le prestazioni non ci sono lo stipendio andrà gradualmente a 50 milioni di euro quindi dei 35 di oggi penso che inizierà 40 45 50 e inizierà a prendere 50 milioni di euro quindi questo è quello che penso io si tiene nascosto il tutto per evitare che si creano polemiche e che piloti che andranno in ferrari come science possano chiedere più soldi cioè science potrebbe puntarsi a dire no se date 40 45 50 a lui almeno almeno 30 35 altrimenti non firmo vedremo vedremo lo sviluppo questi sono i miei pensieri adesso sul rinnovo di leclerc una bella notizia spero che rinnovi anche science che soprattutto ferrari faccia correre liberamente senza fare sozzeria di cui ferrari è molto brava vediamo ragazzi fatemi sapere la vostra sotto i commenti ci vediamo nei prossimi video